La Toscana è stata tra le prime regioni ad autoprodurre mascherine di protezione per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. Il fabbisogno di questi dispositivi è però altissimo fra il personale sanitario. Il presidente della regione Enrico Rossi ha rivolto un appello alle aziende toscane che utilizzano le mascherine nei loro cicli produttivi e che adesso sono chiuse affinché prestino le loro scorte di magazzino al Servizio Sanitario Nazionale. Si parla in particolare delle mascherine con filtro FFP2 ed FFP3. Il presidente Rossi ha garantito che quando gli approvvigionamenti saranno più costanti la regione provvederà a restituire alle aziende questo prestito di solidarietà. Il presidente ha anche emanato un'ordinanza per un uso corretto delle mascherine a disposizione fra il personale sanitario assicurando che quelle prodotte in Toscana sono sicure e testate dall'Università di Firenze. In considerazione dell'emergenza Covid-19 la regione ha prorogato fino al 30 giugno la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito utili per le prestazioni rese in ambito sanitario che scadono il prossimo 31 marzo 2020 e per quelle scadute lo scorso 15 gennaio.